Sono molto contenta dell'avvio di questa cabina di regia. Come voi sapete, il decreto che ha approvato il Consiglio dei Ministri agli inizi di novembre ha organizzato la governance di questa grande sfida strategica italiana che è il Piano Mattei. Abbiamo per questo istituito un'apposita cabina di regia e abbiamo attribuito a questa cabina di regia alcune funzioni ben precise, tra le quali c'è quella di coordinare le attività del Governo nei confronti delle nazioni africane, finalizzare e aggiornare costantemente il Piano, monitorare la sua attuazione, approvare la relazione annuale al Parlamento che, come scritto sul decreto, deve essere presentata entro il 30 giugno di ogni anno. Volutamente abbiamo previsto una composizione della cabina di regia molto ampia e articolata, cioè una cabina di regia che, a differenza di quello che accade per altre cabine di regia, non comprende solamente le amministrazioni centrali, i ministeri, la conferenza delle regioni e delle province, ma abbiamo previsto una cabina di regia che comprendesse anche le diverse agenzie e le società dello Stato, i rappresentanti delle imprese a partecipazione pubblica, dell'università, della ricerca, del terzo settore che si occupano particolarmente di cooperazione e sviluppo. È una composizione che nasce da una scelta che è chiaramente politica, e cioè coinvolgere in questa grande sfida che è il Piano Mattei tutto il sistema Italia, mettere in rete le esperienze migliori che già esistono in molti casi su questa materia, i progetti più efficaci e le risorse adeguate delle quali disponiamo. Chiaramente per fare una cosa come quella che noi abbiamo in testa c'è bisogno del contributo di tutto il sistema Italia, e quindi ancora una volta ringrazio e sono molto contenta di poter contare sul contributo decisivo del nostro sistema. Voglio anche dire che ci sono state molte persone, oltre quelle che noi avevamo già coinvolto, che hanno chiesto di essere parte di questo tavolo. La convocazione di questa cabina di regia sarà delle volte anche variabili, cioè puntiamo a coinvolgere altri mondi, altre persone, altre realtà che possono dare una mano, ma voglio dire che sono ottimista perché ho trovato davvero molto molto interesse, molta voglia di esserci da parte del nostro sistema, e quindi una comprensione di fondo della strategia che stiamo cercando di mettere in campo e una condivisione di fondo di quella strategia. E quindi faremo tesoro ovviamente di questa disponibilità e cercheremo di sfruttarla al massimo. Grazie a tutti.